Sono 2603 gli artigiani che hanno cessato la propria attività in Liguria negli ultimi otto anni. Botteghe artigiane e piccole e micro imprese che nonostante gli sforzi non hanno resistito alla crisi e hanno chiuso i battenti. In totale in Italia si tratta circa di 146.000 imprese. I numeri che emergono dall'analisi di lungo periodo sono per certi settori davvero impressionanti. Migliaia di micro e piccole imprese artigiane messe in ginocchio dalla crisi, commenta il presidente di Confartigianato Liguria Giancarlo Grasso, e duramente colpite in questi anni da callo dei consumi, tassazione vorace, concorrenza sleale, difficoltà di accesso al credito e pesante burocrazia. Tutti ostacoli alla vita delle micro imprese che rappresentano il 96,3% dell'imprenditoria della nostra regione. Secondo Grasso va comunque meglio in Liguria rispetto alle altre regioni e ciò dimostra una serie di interventi messi a punto con l'amministrazione regionale che hanno mitigato gli effetti negativi. Ma questo non basta e conclude dobbiamo aumentare il sostegno al settore che deve restare sempre una priorità nell'agenda regionale.